Ripassiamo insieme Lovers Like You. È un ballo di Igor Pazin. Sono 32 tempi su quattro muri. Ci sono due restart sull'ottavo e sul nono muro, che poi guardiamo insieme. Iniziamo con i passi. Jazz box. Cross side rock. Cross hold. Side rock. Cross stomp. Kick ball. Cross hold. Step cross step. Flick step. Cross step hold. Sailor turn hold. Passo, giro, stomp e stomp. E adesso lo facciamo con i conteggi. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 Ok, l'ottavo muro, dove abbiamo il primo restart. Allora, prima di tutto vorrei dirvi che il settimo muro è un muro strumentale, dove il cantante non canta. Quindi questo dovrebbe ricordarci che poi il muro suggestivo ha un restart, ok? Iniziamo con l'ottavo muro. L'ottavo muro ha 20 tempi che sono uguali e poi cambia un pochettino. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, flick. Fin qua è uguale. Poi mettiamo giù la sinistra, faccio un giro, step di sinistra, hold. E qua abbiamo il restart del nonno muro. Adesso facciamo il nonno muro. Jazz, box, cross, side, and, cross, hold, side, and, cross, stomp. Kick, ball, cross, hold, step, cross, step, flick, step, cross, step. Sailor, step, flick, stomp, hold, hold, hold. E poi abbiamo il restart. Adesso lo facciamo con la musica. Divertitevi! Divertitevi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti